ciao a tutti ragazzi qua Ivan da Hazard Gaming dopo un po' che non ci sentavamo certamente ho fatto anche gli episodi di Batman Arkham City in live però di veri commentari questo è il terzo e visto che è un po' che non ne facevo su giochi stile Call of Duty, FPS ho detto facciamone uno prima che esca Mv3 perché dopo aver provato un po' Battlefield 3 così ho detto adesso devo aspettare anche Mv3 per dare un giusto giudizio anche a quel gioco comunque per dare addio a Mv2 ho fatto questo piccolo video diciamo che durerà 9 minuti e passa comunque quasi 10 minuti un video abbastanza lungo perché comunque è una partita molto lunga che ho dovuto accorciare nei limiti delle mie possibilità perché comunque durava mi sembra 14 minuti o giù di lì 13 14 adesso non mi ricordo bene comunque ho dovuto tagliare la parte della C-130 che c'è più o meno a metà perché non mandava tanto ormai la C-130 non sapete mai Maoria com'è fatto come spara così e poi ho preso un altro C-130 verso la fine praticamente alla fine ho fatto l'ultima kill con la C-130 anche se in dominio non è che ti fa vedere le kill come se fosse un dead match a squadre o cerca di struggire ma chi se ne importa parliamo un attimo della partita in sé allora in questa partita che poi è stata anche la mia partita migliore in cui ho fatto un non ve lo dico perché dovete vedere alla fine perché come dire guardate una partita di calcio vi dico già ho vinto 3 a 0 oh mio dio oh mio dio che cazzo serve allora che ti guardi la partita a meno che non hai fatto tre rovesciate vabbè vediamo come ha fatto se era usciato ma vabbè vedrete la fine poi il risultato finale è la migliore partita tra virgolette forse l'ho già detto ma mi ripeto vabbè a niente quindi in questa partita ho usato l'UMP 45 con silenziatore visto che è l'arma più overpower del gioco ho detto per fare un ottimo risultato visto che io non sono un gran giocatore sono proprio un giocatore medio livello cioè non è che gioco così proprio da professionista diciamo vabbè ho usato l'UMP con silenziatore sciacallo certamente se vuoi fare dei risultati e avere anche dei proiettili in canna sciacallo è d'obbligo puoi potere ad arresto come al solito mira stabile clamor e due stordenti come al solito e anche come altra arma overpower del gioco ho usato lost in questo caso ero lost quindi arma overpower lost insieme all'UMP cazzo è un bordello ragazzi cioè se non vinci con un'arma così forte e da host difficilmente riuscirai a fare degli altri risultati del genere quindi host for the win in questo caso comunque per dare addio mv2 ho fatto questa partitina e visto che un po tutti noi ci siamo un po stancati di questo mv2 quindi diciamo che in poche parole ho cercato di fare una piccola color correction per dare un tocco in più diciamo un'atmosfera diversa da quella che noi ormai conosciamo benissimo che si conosciamo bene il gameplay conosciamo bene le mappe ma conosciamo anche bene la tonalità delle mappe il colore delle mappe e quindi così ho cercato di dare qualcosa di diverso a un gioco che ormai noi conosciamo benissimo ma cosa ci pancherà di mv2 sostanzialmente i lanciagranate non tanto mila vagante forse forse no quella no ma uomo esercito no quello non ci mancherà ma una cosa che purtroppo abbia fatto non molto piacere è stata che in questi ultimi dieci giorni anche diciamo anche ultimo mese in quasi tutte le partite ha aumentato in modo esponenziale il numero delle persone che usano la lanciagranate con mila vagante forse perché hanno detto vabbè dai chi se ne importa adesso esce mv3 bordello a manetta forse anche quello è il motivo però per gente diciamo come me che si gli piace mv2 a me mi diciamo mai fastidito molto perché sinceramente magari ero in serie a 8 stavo per fare due kill ma arriva un lanciagranate nella schiena dico e che cazzo ragazzi cioè aspettate almeno che arrivo non so a care con il clear poi dopo mi spari nella schiena certo sarebbe bellissimo anche se credo che sarà impossibile ma comunque dai ragazzi cioè non è possibile andare in giro con lanciagranate meno male intendo meno male che in mv3 non ne sono sicuro è non ne sono sicuro però han detto che il lanciagranate si sbloccherà dopo il livello 60 o giù di lì io ho detto quando ho sentito questa cosa io vi sputerei in bocca scusate un po è però ma vi fa tanto schifo togliere il lanciagranate da un gioco se lo so è un gioco di guerra però che vi cambia se c'è la schiena d'arte o no a me devo dire mi cambia molto mi trovo meno morti alla cavolo perché non è giusto iniziare una partita lanciagranate across the map e mamma si appena inizia non cerca distruggi che devo stare lì mezz'ora ad aspettare come un po un pirla anche perché quella la tattica del cecchi distruggi tu entri in partita ti ammazzano con lanciagranate eccetera eccetera poi con uomo esercito alla fine cambiano mettono un cecchino e provano i trickshot ma non è colpa mia è perché molti dicono hai la mentalità dei giocatori non dovrebbero fare delle cose del genere sinceramente ma in quei casi lì quando vedo o dei commenti scritti o dei commentari veri e propri nel senso video stile questo qua mi viene un po da ridere per me non è problema della persone perché ormai c'è la gente si sa com'è gli sviluppatori dovrebbero capire nella loro testolina sanno fare un gioco e poi non riescono a capire che i giocatori se li dà in mano un lanciagranate lo usano lo stesso o almeno la maggior parte lo usano e voi smithi ci mettete anche lanciagranate che aumenta il danno quando sparano e allora voi fatevi intelligenti non lo mettete il problema è risolto guarda risparmiate persino del lavoro ma non siete contenti ragazzi cioè risparmiate lavoro e fate contenti la gente ma cosa più bella di questa non c'è dai ragazzi su c'è non potete fare delle cose del genere poi me lo mettete anche come primo accessorio sbloccabile per ogni arma allora siete un po' maledetti comunque chiudendo questa piccola parentesi di mv2 che diciamo della quale vi ho voluto parlare vorrei però sapere le vostre esperienze personali di questo ultimo mese e anche le vostre opinioni magari su come sarà il prossimo mv3 anche se si non l'avete provato ma comunque dei molti video molte novità da parte dei sviluppatori sono state scritte in tantissimi siti quindi chiusa parentesi comunque questo primo video diciamo che sbarcherà la frontiera no sbarcherà diciamo su altri canali tra i quali commentary italia mkk videogames e videogiochi italia questi tre canali ci terremo veramente molto a ringraziarli già perché danno l'opportunità a tutti di caricare i propri video sui loro canali ma anche perché sono gli unici tre canali italiani community cioè sono gli unici che possono aiutare noi italiani a sbarcare tra virgolette nel mondo di youtube ed è una bellissima cosa perché veramente noi italiani siamo i meno considerati tra gli youtuber mondiali o anche europei perché comunque francesi tedeschi vanno veramente molto a parte gli americani inglesi e quelli vanno vanno che è una goduria fortunati loro anche perché sono molti è cioè per noi italiani al massimo noi che diciamo parliamo di videogiochi in italia possiamo avere ma massimo massimo è ma 30.000 iscritti se siamo dei maghi ma proprio perché purtroppo in italia che seguono i videogiochi siamo veramente in pochi e più che altro nel mondo che conoscono la lingua italiana sia veramente in pochi invece gli americani comunque la lingua parlata inglese da tutte le parti cioè di questi tempi se non sei l'inglese non sei nessuno praticamente anche nelle scuole si sa comunque ringrazio veramente molto questi canali spero che questo non dico video assurdo vi sia piaciuto ma è una vostra opinione magari mettete mi piace mi fate capire che questo video vi è piaciuto comunque adesso ho preso di nuovo la c 130 praticamente tra poco si concluderà questo terzo commentary fatto da me magari nei commenti scrivete anche come sono andato perché il terzo video e devo ancora trovare un po un feeling diciamo nel parlare comunque per un tempo abbastanza lungo senza annoiare la gente veramente difficile comunque spero che questo video vi sia piaciuto mettete mi piace se vi è piaciuto che culo che ero lost guardate la connessione degli altri poverini e ciao ciao